La Nissa si ferma ammestamente agli ottavi di finale di Coppa Italia dell'Eccellenza. Pesante la sconfitta dei biancoscudati ad opera dell'Akragas 5-2 nella gara di ritorno all'esseneto di Agrigento. Gli akragantini hanno sciupato anche un calcio di rigore nei minuti iniziali della partita con Mansur. Primo gol dell'Akragas all'undicesimo con Pavisic. Sull'1-0 i nisseni tentano più volte la via del pari che ottengono al 46esimo con un gran gol di Azzara. L'Akragas accuse il colpo ma nella ripresa segna la seconda rete al 64esimo con Semenzin. Il 2-1 rinvigorisce i locali che al 71esimo vanno in gol ancora con Pavisic, autore di una doppietta. Al 75esimo Ortiz riapre la partita ma nel finale l'Akragas dilaga con Mansur all'85esimo e Garufo pochi minuti dopo su penalty. Parla Angelo Azzara sulla pagina Facebook della Nissa. Guardando il risultato per noi è una brutta partita. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, l'abbiamo tenuta fino al 3-2, poi abbiamo subito il quarto e il quinto gol e ci siamo tagliati le gambe da sole. Sarà dunque l'Akragas ad accedere ai quarti di finale, il quadro completo dei risultati. Acragas Nissa 5-2, Don Carlo Enna 2-0 ai rigori 3-2, Leonzio Taormina 0-3 a Tavolino, Modica Comiso 1-1 ai rigori 8-9, Parmonval Resuttana 2-3, Rocca Quedolcese Nuova Igea 2-3, Siracusa Palazzolo 2-0, Sciacca Mazzarese 2-1. Passano il turno Acragas, Don Carlo, Resuttana, Mazzarese, Comiso, Nuova Igea, Siracusa e Taormina.